Gormengast è il monte dove si appoggia l'omonimo castello che fa da scenografia a tutta quanta l'opera e questo castello è fatto di architetture illogiche, labirintiche, iper barocche, in pratica è una serie di cunicoli, di corridoi, di stanze letteralmente assurdi e senza senso, spesso anche gente che vive per anni e anni dentro questo castello si può tranquillamente perdere all'interno di Gormengast. La pietra e il mattone si incontrano tranquillamente con la natura, con l'edera che cresce sulle mura e con il muschio, qualsiasi altro elemento naturale, anche di flore, di fauna ed è popolato da questi personaggi buffi, grotteschi e assurdi dove all'inizio chi comincerà a leggere questa opera avrà sicuramente una sensazione di spasamento e anche questo strano umorismo, alcune volte nero, alcune volte assurdo quasi. Però è soppantato mano a mano durante la narrazione da questa sensazione di oppressione, di disgusto e di incapacità.